Al contrario dell'attese, non è stato un test probante quello sostenuto dal Pescara al comunale di Ortona. Contro la locale formazione, che disputa il campionato di promozione, il Pescara ha presentato la compagine Under-17, con le eccezioni di Castrati tra i pali, poi i farelli nel secondo tempo, e dell'attaccante esterno Donis Avdiai, tedesco di nascita e naturalizzato Kosovaro, che da inizio settimana è in prova agli ordini di Pilon. Non proprio una bella sorpresa per il pubblico di casa, rimasto deluso a fronte del prezzo del biglietto pagato, pensando di vedere all'opera i giocatori della prima squadra del Delfino, alcuni dei quali hanno fatto comunque passerella nel pre-partita. Prima squadra che invece aveva già sostenuto la seduta di allenamento al mattino, ed è stata risparmiata per l'amichevole, il cui incasso è stato devoluto in beneficenza al Lions Club di Ortona. Per la cronaca è finita 2-1 per i padroni di casa, con le reti di Pompeo dell'Ortona, pari pescarese Didi Stefano su suggerimento di Avdiai, e definitivo 2-1 di Sorgetti in pieno recupero. Dopo l'amichevole ha fatto il punto della situazione in casa Pescara il direttore tecnico Giorgio Repetto. Momento topico del campionato, quindi probabilmente non dico decisivo solo per noi, sarà decisivo un po' per tutti. Speriamo di arrivarci in condizioni migliori di come eravamo prima della sosta, perché avevamo un po' di giocatori acciaccati, un po' di giocatori che mancavano. Oggi credo che ci presentiamo, a parte che abbiamo un paio di defezioni a oggi, speriamo che per l'influenza, spero che si riprendano i giocatori e poi dovremmo arrivare quasi al complesso. Cioffri e Crecco ha letto per adesso. C'è poi questo infortunio di Melegoni che non ci voleva in un reparto dove il Pescara era ed è ancora di più corto. Appunto, quindi avevamo già Melegoni che purtroppo per lui credo che si debba operare, ormai è quasi sicuro, e i due ragazzi con l'influenza, però insomma quello di Melegoni, a parte che mi dispiace molto per il ragazzo perché perde la possibilità di giocarsi in mondiali quest'anno, quindi però è giovane, avrà tempo di riprendersi e noi perdiamo un giocatore sicuramente molto forte. Cosa c'è da temere o da rispettare di un Lecce che è riduce da questi sette gol all'Ascoli? A prescine dei sette gol ha giocato benissimo quest'anno, è una buona squadra, l'hanno costruita bene, hanno un bel gioco, molto forti di testa, hanno delle buone soluzioni quasi sempre sul gioco aereo, poi con due o tre giocatori che poi invece come Falco e Mancoso sono bravi anche nell'inserimento centrale. È una squadra direi completa, d'altronde se sta lì vuol dire che i numeri non sbagliano mai. Dei numeri lasciano, nel caso degli schemi, lasciano un po' il tempo che trovano, perché poi molto spesso dipende anche da come giocano le squadre avversarie. Lui credo che in questo momento abbia intenzione di giocare ancora col trequartista, quindi poi dipenderà dalla disponibilità dei giocatori che avrà, vedere se gioca con uno o due punte, però credo che non cambia poi molto, perché Marres è un giocatore che fa il trequartista ma si muove per tutto l'arco dell'attacco. Io penso che sia... i moduli sono tutti buoni, l'importante è l'interpretazione che hanno i giocatori dei vari schemi, perché quando sei concentrato, quando sei determinato, quando sei sicuro nel fare le giocate, puoi giocare in qualsiasi modo. Il problema è quando sei un po' titubante, oppure non sei nella condizione migliore. Avdi Ai può essere utile? Sarà tesserato? Lo state valutando? Certamente non per adesso, non l'ho mai visto. Oggi ha giocato nella nostra squadra, tra parentesi, un sacco di ragazzini bravi nell'Under 17 hanno giocato un bel calcio, però lui onestamente non saprei cosa dirti in questo momento. Ha giocato in formazioni importanti, è svincolato, quindi qualche pensiero, perché sia svincolato, uno se lo deve anche fare. Ha solo 23 anni, però si vede che ha qualche qualità sicuramente di ottimo livello.